partecipato al back friday cosa avete scelto di acquistare o è stata casuale la scelta no noi eravamo partiti per abbigliamento invece forse profume avete risparmiato un bel po come mai avete vi siete fatti dirottare da altro no di solito se una cosa ci colpisce ci piace poi ne abbiamo approfittato che ci erano che gli sconti non sono altissimi perché il 20 per cento ormai si fa tutti i giorni un altro po' quindi diciamo che alla fine secondo me dovrebbero alzare un po' il budget è poco pazzo quindi il black friday dovrebbe essere spese folli sconti folli se ti mettono il 20 per cento insomma un altro po' aspetti il natale e ti fanno il 50 che cosa ha comprato un paio di scarpe e un giubbotto a un bambino quanto ha risparmiato più o meno sulle scarpe niente sul giubbotto una quindicina di euro ah quindi insomma il 30 per cento uno sconto medio sì mi aspettavo di più però va bene così avete partecipato al black friday che cosa avete acquistato magliancini pantaloni e scarpe quanto avreste dovuto spendere quanto invece avete risparmiato io o meno 120 euro io i magliancini ho risparmiato 50 euro che sta bene sì siano prendere tutti